Ben tornati con le quensite previsioni a cura di MeteoOne. Si esaurisce l'instabilità legata al vortice mediterraneo che nei giorni scorsi ha dispensato precipitazioni anche forti su tutto il centro-sud Italia. Tempo quindi in generale miglioramento con aperture sempre più ampie e temperature in risalita. Nel contempo un piccolo vortice freddo interesserà il massiccio centrale francese e l'ovest delle Alpi con un richiamo più umido da sud apportando quindi addensamenti sul Piemonte occidentale e la Liguria e possibili deboli locali nevicate a quote basse. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 27 gennaio. Giornata per lo più soleggiata su entrambe le regioni con blandi passaggi nuvelusi durante la mattinata ma con scarsa possibilità di fenomeni. Entro tempo indeciso miglioramento con cieli per lo più stellati. Le temperature come possiamo vedere dalla grafica saranno in aumento nei valori massimi mentre in calo le minime soprattutto nelle vallate e le campagne a causa dei cieli serini che favoriranno il fenomeno dell'iversione termica. Per quanto riguarda i mari da mossi a poco mossi, i venti moderati da quadranti orientali. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento per la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò che ci mostra l'isola greca più vicina alle coste pugliesi. Si tratta dell'isola di Fanò e in giornate molto limpidi come questa in foto è possibile ammirare la da torre dell'orso. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Mete One e Teleappola oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.